Ciao, sono Andrea Dallan e se hai una punzonatrice da foglio, questo è un video per te. Oggi vedremo infatti Dalkos AXN, l'ammiraglia delle punzonatrici servoelettriche da coil di Dalkos con programmazione parametrica. Questa macchina, rispetto alla punzonatrice da foglio, ti permette di risparmiare fino al 20% di materia prima, fino all'80% della manodopera e inoltre produce molto più velocemente. Questo perché, lavorando da coil, si elimina completamente il tempo di carico e scarico del foglio e inoltre i pezzi vengono staccati e impilati direttamente alla fine della macchina. Tutti questi vantaggi si traducono in risparmi di centinaia di migliaia di euro ogni anno, come testimoniano i casi studio dei nostri clienti. Oggi vediamo insieme questa straordinaria AXN per larghezza nastro 1 metro. Tieni conto che Dalkos ha la gamma di macchine punzonatrici da coil più ampia del settore, a partire da 300 fino a 1500 mm di larghezza. Le applicazioni di questa tecnologia vanno dalle porte blindate fino ai silos alimentari, mobili metallici, quadri elettrici, ventilazione e condizionamento, carpenterie leggere e anche profili per costruzione fino a 4 mm di spessore. La punzonatrice da coil è anche particolarmente adatta se devi punzonare pezzi lunghi più di 3 metri e quando il tuo pezzo è di forma rettangolare puoi tranquillamente lavorare utilizzando il nastro fino ai bordi e eliminando così completamente lo scheletro. Vediamola insieme nel dettaglio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.